Inaugurata nella salaviglione di Palazzo Lascaris il 15 maggio, la mostra i carabinieri reali nella storia d'Italia, uniformi, cimeli, immagini dell'arma benemerita nel bicentenario della fondazione, che resterà aperta fino al 14 luglio. L'esposizione rievoca la storia dell'arma fino al 1946. L'iniziativa organizzata nell'ambito delle manifestazioni programmate per il bicentenario dell'arma è stata inaugurata dal presidente e dal vice presidente dell'assemblea legislativa, alla presenza del generale comandante della regione militare nord Paolo Bosotti e del generale comandante della legione carabinieri Piemonte-Valdaosta Gino Michale.